L'abruzzo dei pedali sul gradino più alto del podio ai mondiali di paraciclismo in corso di svolgimento a Roskilde, Copenhagen, fino a domenica 11 settembre ci pensano i fratelli Ivano e Luca Pizzi nel tandem a regalare all'Italia nella seconda giornata di gare uno splendido oro. Nella cronometro sulla distanza di 30 km e 600 metri gli azzurri volano e conquistano il titolo iridato in 38 minuti e 17 secondi con una media significativa di 47,946 km all'ora. Argento alla coppia spagnola comandata da Christian Wengel Balboa e bronzo agli statunitensi capeggiati da Clark Ratchfell. Per i Pizzi di Lanciano, del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, campioni ridati in linea ai mondiali del 2010, un risultato strepitoso. I due fratelli sono sempre stati regolari, spiega il commissario tecnico della Nazionale Mario Valentini, spingendo su rapporti giusti con anche una difficoltà in più, visto che hanno utilizzato la bici da strada adattata alla crono. Un grande risultato che ricompensa il lavoro finora svolto con passione e dedizione. Non ce l'aspettavamo, afferma Luca Pizzi, anche se in questi mesi ci siamo allenati tenacemente. Vincere nella cronometro e tra l'altro con una bici adattata per l'occasione è una soddisfazione doppia. È stato difficile e duro anche perché è in competizione con specialisti del settore, ma l'abbiamo spuntata, siamo felicissimi. Questo risultato, aggiunge, ci porta anche alle Olimpiadi di Londra, ora è certo. Un ringraziamento alla famiglia, a tutti quelli che ci sono sempre vicino, sponsor compresi. I fratelli Pizzi torneranno su strada l'11 settembre con la prova in linea.